Si parte dal verde Affari d'oro, un tanto al chilo Attenti al coleottero Successi in serie sul tatami Tg di Solbiate edizione di agosto ben ritrovati Dopo il successo delle prime attività proposte in pubblico A Solbiate e Lona si sta organizzando il primo importante appuntamento dall'inizio della pandemia Con tutta la potenza del caso A settembre possono ricominciare le iniziative pubbliche Una in particolare c'è la racconta Fidela Allora, questo mese proviamo a riprogrammare quelli che erano gli incontri Che avevamo già previsto di fare l'anno scorso Che purtroppo abbiamo dovuto annullare per via del Covid Il 30 di settembre avremo il primo incontro antitruffa Che è dedicato alle persone della terza età Diciamo gli over 65 Questo è un percorso, non è solamente un incontro Perché saranno in totale otto incontri Cinque al centro socioculturale E tre invece all'aperto Quindi andremo da quest'anno fino alla primavera del 2022 Perché abbiamo previsto di fare non solamente corsi antitruffa Ma fare anche dei corsi di autoprotezione Per noi è molto importante il discorso dell'autoprotezione Perché il vero problema quando ci troviamo in un contesto di truffa o di furto C'è quell'aspetto emotivo Quell'aspetto che tutti quanti non conosciamo E quindi abbiamo bisogno anche di essere supportati dagli psicologi Noi veramente invitiamo tutta la popolazione degli over 65 Che tra l'altro hanno già ricevuto il modulo Con il quale ci hanno comunicato i loro dati E quindi li abbiamo inseriti nel nostro sistema di Aller System Che hanno già provato negli ultimi mesi Perché è stato utilizzato in diverse situazioni Veramente chiediamo che aderiscano a questi incontri E chiediamo anche se possono di portare i loro nipoti Nipoti un pochino più grandi Perché? Perché non è solamente un corso dedicato all'antitruffa Ma vorremmo anche che ci fosse quella risocializzazione Sia all'interno dei condomini dove abitano molte persone anziane Sia anche invitare gli anziani a parlare di più con le loro famiglie E con i loro nipoti che magari sono a disposizione E che possono essere chiamati in un momento di difficoltà Un programma quindi penso che interessi tantissima gente Però ci vuoi spiegare nel dettaglio almeno quali sono gli appuntamenti più immediati? Sì, allora l'appuntamento più immediato è quello del 30 settembre 20 e 30 al centro socioculturale Bisogna richiedere l'appuntamento Troverete in web e anche nelle baccheche Da domani metteremo l'avviso con il numero di telefono da chiamare in comune Per prendere appunto l'appuntamento Purtroppo dovremo chiedere il Green Pass Perché sapete che la legge lo richiede Quindi muniti di Green Pass che controlleremo Il 30 settembre parleremo di furti in ambito domestico Saranno presenti i carabinieri, la polizia locale Ci sarà un tecnico dei sistemi d'allarme Successivamente, tra ottobre e dicembre Faremo altri due incontri Daremo poi successivamente le date Uno sarà invece prevenzione delle truffe in ambito esterno Quindi quando ci muoviamo, andiamo al supermercato Scendiamo dall'auto Ci sono varie situazioni nelle quali possiamo essere colpiti da queste truffe Il terzo incontro invece è prevenzione furti nel campo informatico Molto importante perché questo è un tema nuovo ed è dilagante In questo caso ci sarà, oltre alla polizia dei carabinieri Ci sarà anche un tecnico informatico Che spiegherà come evitare le truffe attraverso il web E a questo punto poi parteremo con il quarto incontro Che sarà l'ultimo al coperto, come dicevo prima Che è il sostegno psicologico post-trauma Ci sarà una psicologa che seguirà praticamente Spiegherà alle persone come superare il trauma della truffa O il trauma della rapina in casa anche Invece nei corsi di autoprotezione saranno all'aperto Li faremo probabilmente o in un parco Oppure nel giardino vicino alla scuola media E lì ci sarà invece un esperto di arti manziali Sembra una cosa assurda Però l'esperto di arti manziali spiegherà anche come ci si deve comportare fisicamente Di fronte a un'aggressione Che non significa autodifesa vera e propria Ma ci sono delle piccole cose che si possono fare Per evitare di essere colpiti dalle persone che ci avvicinano Poi daremo ovviamente tutte le spiegazioni nei vari corsi che andremo a fare Veramente quello che ci teniamo è che le persone aderiscano Perché nessuno deve avere vergogna Non pensate che le truffe colpiscono solamente gli ultranovantenni Colpiscono tutte le persone Perché quando ci capita non siamo mai preparati Quindi una preparazione adeguata serve per evitare di cascare all'interno di queste situazioni Fulella posso approfittarne per un'ultima cosa veloce Il mese scorso abbiamo parlato dei lavori su Via Calvi Giusto? A che punto siamo? Allora prendo l'occasione, anzi ringrazio Per dire che sono già partiti i lavori di ripristino della sponda di Via Calvi Lo dico anche perché vedremo tagliare alberi Non vorrei che la popolazione si risentisse del fatto che stiamo tagliando altri alberi Ma fanno parte del lavoro che dobbiamo fare di riqualificazione di tutta la sponda Farò anche un'altra intervista nella quale spiegherò esattamente come è strutturato tutto l'intervento Ma è assolutamente necessario per poter fare il consolidamento di tutta la sponda Taglio degli alberi e poi tutto il lavoro che serve per far sì che la sponda non frani Nel caso purtroppo di eventi violenti che vediamo sono sempre più presenti Per gli appassionati di shopping si apre una nuova curiosa opportunità A pochi passi da casa in Via Patriotti infatti ha aperto Kilotech Piccolo bazar di prodotti assortiti, regolarmente nuovi, venduti però a prezzi speciali Siamo andati a scoprire il perché I più attenti se ne saranno già accorti Sul biatolone da qualche tempo su Via Patriotti c'è un nuovo negozio Ma un negozio un po' particolare E Leonardo adesso ci spiega perché La nostra attività si occupa di ritirare tutte le non consegne degli e-commerce La particolarità dell'attività è che noi acquistiamo al chilo E rivendiamo al dettaglio tramite una bilancia tutto quello che trovate nel negozio Ci sono varie categorie Categorie che partono da pezzi di ricambio al prodotto smart Che potrebbe essere il telefonino, il tablet, il pc, abbigliamento Le categorie sono tante E sono prodotti invenduti Diciamo Importante dire Sono tutte giacenze di non consegne Tutto quello che non si riesce a consegnare al cliente Va su una piattaforma gestita ovviamente E scaduta la giacenza dove comunque il cliente viene rimborsato Attenzione Questa giacenza dopodiché rimane lì in queste piattaforme Che è molto importante da dire Sono destinate a essere distrutte Ecco noi le rivalorizziamo e le rimettiamo sul mercato Ma questa idea di vendere a peso è tua o fa comunque parte del progetto? Allora il progetto è mio, il marchio è mio La modalità di vendita l'ho inventata io Non è che ho inventato chissà che cosa Però la metodologia di vendita è mia, sì, è mia, tutto mio Al di là della curiosità, penso perché il negozio attira un po' l'attenzione Com'è la risposta di Solbiate? Allora su Solbiate ancora ci stiamo lavorando Ecco è un'attività comunque nuova, ci dobbiamo far conoscere Abbiamo altri punti vendita, altri punti vendita che comunque la clientela è fluente Cioè nel senso comunque risponde bene Su Solbiate ok ci dobbiamo lavorare Quali sono gli oggetti più curiosi, più particolari che potresti farci vedere? Guarda io ti do libera scelta Gira pure, vedi un po' cosa ti attira E magari facciamo anche una prova Andiamo a vederli Quanto è la differenza del valore commerciale a quello che vendiamo noi Andiamo a vederli Giuseppe prendiamo a caso un prodotto Magari un prodotto dove la gente sa magari un valore Sa dare un valore a un oggetto Prendiamo questo, è un prodotto per le donne Ecco, se vieni ti faccio vedere Una cosa che volevo precisare È che comunque alcuni prodotti Cercheremo di farli su tutti Ma siccome sono tanti Magari alcuni non hanno Già la prezzistica di vendita al chilo È come andare dal fruttivendolo E comprare, che ne so, i pomodori I pomodori li paghi a 2 euro al chilo Ecco qua si paga l'elettronica al chilo Questo è un prodotto da 35 euro al chilo È un riccia capelli per donne Cerchiamo di aprirlo Così lo facciamo anche vedere È un prodotto di ultima generazione Ecco, cosa importante Noi abbiamo anche prodotti comunque del momento Non abbiamo stock magari vecchi Ma tutta roba del momento È un prodotto che magari qualcuno conosce Valore commerciale Si aggira intorno ai 30-40 euro Noi pesiamo con tutta la confezione Ovviamente Lo vendiamo a 35 euro al chilo E viene 19,53 Qui abbiamo un risparmio del 40-50% Di un prodotto nuovo Ripeto, nuovo Giuseppe qui ho preso altri prodotti Adesso non stiamo lì ad aprirli Magari facciamo vedere così Questo è un kit per i camion Sono dei kit che hanno delle telecamere Che ti dà la possibilità di parcheggiare O di far manovre al meglio col camion È un prodotto Che noi lo vendiamo a 124 euro È un prodotto di 200-300 euro Una telecamera tipo l'AP-cam Da sorveglianza in casa Ecco È un prodotto che noi lo vendiamo A 35 euro al chilo Viene a 15 euro Orologino Un orologino Con la bellezza di 99 centesimi Giuseppe E poi abbiamo magari dei prodotti Che sono un po' più specifici Sono un po' più per gente che fa delle attività tipo estetista Questa è una penna per fare dei semi-permanenti E noi lo vendiamo a 35 euro al chilo E viene 26 euro È un prodotto da 100 e passa euro E poi ci sono altre cose Cosucce Magari telecamere subacque E noi le vendiamo a 40 euro Quindi questo viene a 14 euro Ce n'è per ogni e ce n'è per tutti C'è per ogni gusto C'è di tutto Ciao e grazie Negli ultimi anni La diffusione della popiglia japponica Un coleottero di origine giapponese Ha raggiunto livelli allarmanti In giardini privati, pubblici e boschi Sono infatti ormai evidenti I danni provocati ad alberi Da tempo il servizio fitosanitario Di regione Lombardia Mette in atto un piano di controllo Il piano di controllo per il 2021 Prevede l'utilizzo di due tipologie di trappole Le prime sono ormai più di 2000 in Lombardia E diversi presenti anche nella nostra zona Sono formate da un trappiedi Ricoperto da una rete impregnata di insetticida Attirano il coleottero E lo portano a morte La seconda invece sono verdi e gialle Anche queste attirano gli insetti Che rimangono intrappolati in un barattolo di plastica Vengono utilizzate anche per lo studio Della dinamica della popolazione Il servizio fitosanitario Chiede la collaborazione di tutti i cittadini Affinché queste trappole Non vengono spostate Sottratte o manomesse Il loro posizionamento è stato studiato In modo da massimizzare il contenimento Dell'insetto Senza arrecare danni alle aree circostanti E ora è arrivato il momento dello sport C'è una sola notizia di sport questo mese Ma è di quelle veramente importanti Ai campionati europei di Tampere infatti La nostra Roberta Domenici Ha raggiunto un ottimo secondo posto finale Alla prima partecipazione In una manifestazione di questo livello La giovane karateka solbiatese È arrivata in finale Nella categoria cadetti kata individuale Arrendendosi solo alla forte rivale spagnola Di ritorno dalla Finlandia La sua società, lo Scorpion Karate Ha voluto accoglierla con una festa Degno del grande risultato raggiunto La sua società, lo Scorpion Karate Grazie a tutti i nostri spettatori Roberta, ci siamo lasciati con un augurio, direi che proprio male non è andata, raccontaci tutto. Allora, questa gara qua è stata l'esperienza più bella della mia vita e spero di rifarne ancora e ancora perché sicuramente è quello che voglio fare da grande e soprattutto è stata un'emozione unica che anche se non ho vinto l'oro mi ha sempre coinvolto di più ad ogni turno che facevo e quindi spero comunque di continuare così perché io sono davvero felice quando faccio le gare o quando faccio questo sport. Oggi è passata qualche giorno, qualche settimana ormai, la Scoprim ci ha fatto una grande festa, diciamo più la gioia attua in secondo posto o la delusione magari per la mancata di storia? No perché allora per me sicuramente è stato un secondo posto meritato perché dopo 15 mesi passati ad allenarsi in casa con tutti i problemi che c'erano per la pandemia direi che è stato davvero un secondo posto ottimo e soprattutto non dovevo neanche esserci io a questo europeo e quindi sono pure contenta di essere riuscita a portare una medaglia alla nazionale italiana. E per questo è tutto ci vediamo alla prossima edizione. A presto! Ciao! 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 Ciao!